ciao a tutti eccoci in questo nostro nuovo video grazie mille per il traguardo raggiunto che abbiamo raggiunto proprio poco fa in live grazie a tutti veramente lo apprezziamo davvero tanto ed infatti oggi per festeggiare questo grande evento abbiamo insieme a noi appunto Venom saluta ciao ecco Venom è davvero bravo a cantare una canzone interpretare un cantante che è appunto Vitas non Vitas e quindi adesso canterà per noi io farò la base con le mie mani quindi cominciamo ok vedete un bel mi piace per questo Venom canterino beh spero che questo video vi sia piaciuto se si lasciate un bel mi piace lasciate un commento vi condividete il video con chiunque e iscrivetevi al canale grazie ancora per questo traguardo raggiunto anche da parte di Venom grazie a tutti ci siete dalla prossima ciao a tutti